Dopo lo stop determinato dalla diffusione del coronavirus, ritorna quest'anno ad Alghero uno dei riti più antichi, la Settimana Santa. Il programma è realizzato in collaborazione tra la Diocesi Alghero-Bosa, la Confraternita della Misericordia, l'Amministrazione Comunale e la Fondazione Alghero e vede la partecipazione di associazioni e corali algheresi e del territorio regionale, che da ormai diversi anni accompagnano le processioni insieme alla banda musicale da Lerci. L'immagine che affianca la comunicazione grazie al prezioso contributo del liceo artistico Costantino di Alghero è opera di Martina Pintore, della classe 4a B. Dal titolo Palma e Croce, l'immagine che rappresenta i riti è ispirata alla cultura della palma in Sardegna, Savramma Pintara, e il rito del Desclavament, la cerimonia più suggestiva del Venerdì Santo. Una serie di eventi che partiranno venerdì 8 aprile con la processione della Dolorata, domenica 10 la celebrazione della Festa delle Palme. Il 12 aprile si entrerà nel vivo con la processione dei misteri e giovedì 14 aprile la Santa Messa Crismale, celebrata nella Cattedrale di Santa Maria dal Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, accompagnerà il rito il coro diocesano Alghero Bosa. Alle 18.30 si terranno la Messa in cena domini e il rito della lavanda dei piedi, seguirà la processione e l'adorazione eucaristica. Venerdì 15 aprile il Clou, alle 11.20 la processione della Via Crucis, seguita dall'innalzamento del Cristo. Alle 20.30 in Cattedrale andrà in scena il rito del discendimento. Domenica 17 aprile, giorno di Pasqua, alle 9.45 l'incontro di Gesù Risorto con la Madonna nei bastioni Cristoforo Colombo, angolo via Carlo Alberto.